La preparazione per la nuova stagione prosegue mentre siamo arrivati a questa gara della terza fase a gironi della Coppa Internazionale Europea. Finora è stato un torneo davvero molto interessante, spero di assistere anche oggi a una partita spettacolare. Questi sono i giocatori che cominceranno la sfida per la Lazio. Parte il tiro, grande parata, grande riflesso, super qui il portiere. Potrebbe grossare. Si riprenderà con un fallo laterale. Ottimo tiki-taka. Buona la parata impresa da parte del portiere. Interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Joao Mario. Non riesce a tenerla in campo, sarà rimesso laterale. Albitro che ferma il gioco. Grande intervento del portiere. Si ripartirà con il corner. E' un'altra parte del portiere. E' un'altra parte del portiere. E' un'altra parte del portiere. La mette in mezzo, con i pugni, allontana. Palla che finisce in out. Conclusione da cancellare. Chiude bene il triangolo. Palla in palo laterale. Palla in palo laterale. Palla in palo laterale. Si ripartirà con il calcio di punizione. Occhio a cross. Fuori da raffallo laterale. Prova il cross. Si salva di pugno. Prova a rubargli il pallone. Cerca la rete. Palla nettamente fuori in bersaglio. Il portiere non ha avuto problemi. Ottimo pressing. Recupera il pallone. Sarà pallone laterale. Sarà pallone laterale. Arriva all'intervento dell'arbitro. Punizione. Ciao Mario. Alabà. Grande intervento per liberare l'area. Palla in out. Calcio d'angolo. È un tiro velleitario. Si impinna e finisce lontanissimo dalla traversa. El Sharaoui. Cross pericolo. L'idea non era male ma il cross è stato pessimo. Portiere che blocca il tiro. Bravo qui. Passaggio che non era certo. Tra i più precisi. Questo ha agevolato il suo intervento. E si chiude qui. Corso. Un'altra. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il nostro incontro della terza e ultima fase a Giloni della Coppa Internazionale Europea. Il pubblico si aspetta molto dai loro beniamini. Occhio al cross. Passano via il pallone. Attenzione! Prova in acrobazia. Il portiere dice di no. Ci aspetta il calcio d'angolo. Va con i pugni il portiere. Sarà nuovamente calcio d'angolo. Palla che esce. Sarà fallo laterale. Sarà ancora fallo laterale. Una prima frazione di gioco. La sua che si è chiusa senza grandi acuti. Ci si aspetta di più da uno come lui nella ripresa. Ha giocato un brutto primo tempo. Girando un po' a vuoto e facendo mancare il suo contributo in zona gol. Si spiega anche così il pareggio maturato al termine dei primi 45 minuti. Fabio Sturgeon. Prova a sorprenderlo. Ottimo l'intervento del portiere. Deviazione. Calcio d'angolo. Prova con la testa. Era una bella azione. Potevano e dovevano sfruttare. Parla meglio. Ha battuto veramente male questo cuore. La Serie A protagonista della prossima partita. La Lazio sarà di scena fuori casa e affronterà il Zassuolo. Non vedo l'ora Pierluigi di raccontare il match in diretta per i nostri telespettatori. Secondo quanto riportano i siti online, Lazio avrebbe individuato in maniera precisa il prossimo obiettivo di mercato. La società si starà fregando le mani pensando a quanto potrebbe incassare da una sua possibile cessione. Ammesso che decida di farlo partire. Fabio Sturgeon. Pericolo, balla in gioco. Tutto è pronto per il cambio. Si attende solo il segnale dell'arbitro. Vediamo se questa sostituzione riuscirà a portare nuove energie e nuove idee. Va di testa. Non trova la porta di testa. Ha mancata la coordinazione. Non è riuscita di indirizzare il pallone come avrebbe voluto. Si riprenderà con un fallo laterale. L'allenatore opta per un cambio. Alapà. Si preparano a cambiare qualcosa alla prossima interruzione. Credo che questo sia proprio il momento giusto. C'è il tocco sulla fascia. Occhio al suo movimento. Vanno a girare il pallone molto bene. Arbitro che ferma il gioco. Palla riconquistata con un'ottima chiusura. Fabio Sturgeon. Quello molto fisico per il possesso di palla. Tunkara. Qui esagerano con il Tiki Taka. Finiscono per regalare il pallone agli avversari. Parte il cross. La mette in mezzo. Risolve lui. C'è il triangolo. Morrison. Un'ottima serie di passaggi. Palla in pallone. Palla laterale. Palla che esce. Touche. Rimessa laterale. Un altro ottimo tocco. Buono il dai vai. Cross. Pericolo. Palla che è finita sul fondo. Si ripartirà con la rimessa. Morison. Tunkara. Si ripartirà con una rimessa laterale. Punta l'area. C'è il traversone. Corner importante. Manca poco. Il portiere di pugno allontani. Può metterla in area. Capisce tutto e ferma l'azione. C'è il fisco dell'arbitro. Gara che finisce 0-0. Con qui.